Post crisi dei mercati finanziari sbarca a Venezia un film attrettanto tetro dal contenuto talmente pessimista che negli Stati Uniti l'uscita è stata posticipata di un anno. The Road del regista australiano John Hillcote è l'inquietante storia di un padre e il figlio che camminano attraverso un'America rasa al suolo da un evento apocalittico. Un viaggio pericoloso tra bande di cannibali, un freddo fatale e armati solo di una pistola. Seppur la premessa sia catastrofica, la curiosità mediatica è simile a quella di una commedia romantica. Fotografi di tutto il mondo hanno accolto il regista e l'attore principale Viggo Mortzen, forse sperando di vedere gli altri attori Robert Duvall e Charlize Theron. Atmosfera di ansia e tensione, ma questa volta in un ambiente familiare americano, per il film Life During War Time di Todd Solons. Il regista ha presentato il sequel di Happiness, in cui la precedente protagonista è stata sostituita dalla minuta attrice scozzese Shirley Henderson, alla sua prima esperienza oltroceano.